ed eccoci qua altra partita altra merda altra partita altra merda perché ben bene sto pareggio che vale una sconfitta sinceramente sono contento che è ritornata a gol però sinceramente io vedo sempre le solite partite sempre le solite partite trite e ritrite e non vedo altri rimedi sinceramente sono contento che è ritornato come detto al gol tammi detesta bel gol ne è durato manco una trombada con io sinceramente perché subito ha segnato Pina Monti porca puttana e per me questo pareggio equivale a una sconfitta perché oggi potrei l'Atalanta mi pare che se era sul 2-1 stava a perdere addirittura con Lecci e noi altri cosa facciamo? perdiamo come se la storia della Roma è sempre stata questa non approfittiamo mai di niente porca troia va bene che col Sassolo tanto non ce vienchi da 4 anni ho il lavoretto prima della partita sento una puzza di X perché l'ho giocata anche su deficienti più di loro perché sono stupido porca puttana perché ci credo sempre nonostante mi incazzo come una bestia pure la partita successiva dico ho già vincito ma manco per il cazzo invece porca troia manco per il cazzo letteralmente presi a Sassate dal Sassuolo secondo il mio modestissimo parere porca troia non ho visto niente di buono sinceramente sempre le solite partite con sotto ritmo poche occasioni Zagnolo che va a sbattere contro i pari di allenamento ragazzi è sempre le solite sempre dopo non c'è ragione la gente di che Zagnolo segna solo con qualcuna dei mediocre porca troia tocca a essere continui tocca a essere continui cazzarola non basta fare una partita all'anno porca puzzolona mi sono rotto il cazzo queste partite venisse la prossima partita poi basta pausa calcio non posso più basta voi altri mi ci mandate tutti al manicome mi ci mandate tutti al manicome porca troia vedo sti campionati sempre i stessi sempre le solite cose ci anceppiamo sempre sui soliti soliti errori solite cazzate solite stronzate perché c'erano sempre i soliti giocatori che non vanno che non vanno mai a fare in culo sinceramente parlando perché andrebbero mandati via seduta stante invece di idolatrarli a chissà quali cazzo dei giocatori porca troia invece idolatramo idolatramo sti pseudo giocatori che non valgono nel merito cazzo sinceramente parlando continuiamo pure c'ha ragione quell'altro youtuber da Iale idolatramo troppo sti giocatori a veline a super giocatori super pompati quando invece non valgono nel merito cazzo di niente punto e basta allora scendiamo sulla terra tutti tutti quanti porca troia e quindi niente quando pareggi col sassolo ragazzi c'è per un poco la dire per carità il sassolo è una buona squadra non è una squadretta anzi c'ha ottimi talenti laurenteto lì quello è davvero forte poi nel secondo tempo fa attento anche Berardi c'hanno un bel attacco sinceramente parlando lo stesso frattesi che spendemo fior di miliardi di milioni porca troia per giocatori che non valgono un cazzo e non spendemo i soldi per chi veramente secondo me vale perché frattesi oggi ha fatto una bella partita ha sperato anche il gol di testa se non ricordo male ma è mampestata continuiamo a spendere i soldi per i giocatori scarsi del cazzo e invece non prendemo quelli che secondo me valgono qualcosa porca troia e quindi niente lui Patricio man of the match man of the match perché senza lui in porta oggi ne piavamo un carretto porca troia e quindi niente continuiamo a dire sempre le solite cazzate sempre le solite storie errori supererrori sempre i soliti tra l'altro sempre i soliti ibanez ibanez vogliamo parlare di ibanez ha fatto un errore verso la fine del secondo tempo che momenti ci accosta il gol del vantaggio del sassuolo altro stupido errore porca troia porca puttana ha rotto il cazzo anche quella adesso Mancini sempre del solito ammonito giocate l'ammonizione dei Mancini sulla Roma che dice sul sicuro porca mignotta ladra e quindi niente c'ho niente altro da dire su sto video sinceramente mi sono rotto il cazzo mi sono rotto veramente il cazzo porca troia perché porca puttana oggi c'erano 4.000 tifosi a seguirve ve meritate lo stadio vuoto lo stadio vuoto c'è troppo c'è troppo c'è troppo amore c'è troppo c'è troppa gente volemmo troppo bene questa squadra però i risultati dei giocatori in campo non hanno consoni al grande amore che abbiamo noi per loro porca puttana perché noi moriremmo in campo invece loro non se ne fregono un cazzo tanto loro alla fine del mese sono lì più nostri c'ha ragione mia madre quando quando mancazzavo quando ero a casa che mancazzavo come una bestia tanto loro prendono i soldi e capì danno i servosischi e basta e questo è il risultato ogni singola partita della Roma puttana Eva ceppiamo il mal del cuore e basta c'è nient'altro da fare 90 minuti del nervosismo totale per vedere sempre i soliti e stupiti errori in campo perché tanto anche se ci dio in panchina vuol di poco niente porca troia qui è proprio questione dei giocatori che non incidono non fanno un cazzo errori stupidi porca troia siamo proprio con le pezze al culo direi siamo proprio con le pezze al culo sinceramente e quindi niente proprio deluso al 100% porca troia tra l'altro oggi ho comprato anche la la sciarpa della Roma la sciarpa della Roma in azione limitata ovunque tu sarai noi altri ci siamo sempre voi altri non ci siete più un mese mi dispiace lillo ma noi altri ci siamo sempre ci saremo sempre e voi altri che andate in cazzo un campo sinceramente parlando perché guardando a parire della Roma è come a beve un bicchiere di camomilla una tazza di camomilla ti fanno un sonno eterno proprio un sonno eterno chiamato anche il sonno della nonna porca troia che sembra che sia morto porca puttana una noia mortale stramortale porca puttana c'è 80.000 attaccanti nessuno che riesce a segnare nessuno tranne oggi Abram porca troia io non è che so tanto d'accordo con sto mondiale anzi non so per niente d'accordo con sto mondiale a dicembre ma mai a novembre scusate ma mai come questa volta voglio la pausa che ne posso più basta 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 mamma mia per carità basta calcio basta tutto per carità di Cristo e quindi niente davvero salvo poca gente salviamo quei 4.000 che oggi hanno giti a Sassuolo si sentino solo loro fra un po' porca troia perché il tifo non manca mai porca troia perché noi altri vincemo a discapito delle vittorie che mancano sempre in campo porca troia sempre i vincenti fuori ma è il dentro che conta purtroppo e non si risolve un cazzo sempre i soliti cazzi che nenni mi sono rotto le palle punte e basta c'è niente altro a dire su sta partita sinceramente mi sono ridilungato anche troppo porca puttana mi ricordo manco contro chi cazzo ah si col Torino ma mai mi viene da ride mi viene da ride guarda mi viene da ride mi viene da ride per non piangere Torino è un'altra squadra che è più o meno come il Sassuolo quindi toccherà stare attenti tra il Sassuolo venireà da sconfitta se non sbaglio quindi risuscitiamo tutti noi altri siamo speciali in questo sempre stati speciali in questo anche negli anni d'oro purtroppo e quindi niente altamente deluso per me sto pareggio equivale a una sconfitta adesso non so che diranno gli altri amici romanisti ma io sinceramente sono altamente deluso porca troia e quindi niente proprio ne posso più basta è sempre Forza Roma ovviamente